Come si sta facendo con il Fondo dell'Unione Europea? Ho guardato le schede e in effetti si tratta proprio di questo, di vedere come si possono aiutare le scuole a cooperare con delle società, con delle imprese, come creare innovazione, come creare spin off. Per noi è molto importante che si capisca che l'Unione Europea non è una cosa remota ma che interviene concretamente nella vita di ogni giorno e dipende molto da noi cosa ne vogliamo fare. Se un progetto è intrapreso bene, fatto bene, dipende da chi è impegnato in questo progetto. Sono molto contenta di essere qui e poter contribuire a questo.